Aida Espica Aida Espica tradita dal fidanzato Geppi? Spunta lamente Aida Espica è stata tradita dal fidanzato? Spunta lamente segreta. Colpo di scena nella storia, ormai conclusa, tra Aida Espica e l'imprenditore napoletano Geppi. Il settimanale vero ha raccolto la testimonianza di Veridiana, presunta amante dell'uomo. Secondo quanto raccontato dalla donna la rivista, Geppi avrebbe tradito Aida durante la permanenza della venezuelana all'interno della casa del grande fratello Vip. Il tradimento non sarebbe avvenuto dopo il flirt tra la Espica e Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen, bensì prima. . Geppi, sempre stando a quanto ribadito da Veridiana, vivrebbe una duplice vita perché vuole diventare famoso e per questo motivo avrebbe perdonato il presunto bacio tra Aida e Jeremias. . . Le dichiarazioni di Veridiana sull'ex fidanzato di Aida Jespica. Geppi e Veridiana, come raccontato dalla donna, avrebbero una relazione da anni, più precisamente da tre, con tanto di presentazioni in famiglia. . Una storia piuttosto tormentata, un tira e molla infinito che sembra proseguire ancora oggi. . Prima ancora che lei baciasse Jeremias, Geppi mi chiese di raggiungerlo. . Gli dissi di no e lui venne da me, quella sera facemmo l'amore ha dichiarato Veridiana. . Ma quella non sarebbe stata lunica volta, come spiegato da Veridiana, quando Aida è uscita dalla casa gli ha chiesto se aveva fatto il bravo e lui ha risposto di sì. . Solo due sere prima, invece, Geppi e io siamo stati a casa mia. . Ho deciso di parlare perché mi sono sentita presa in giro da un uomo che dorme con me e poi va in tv da un'altra ha aggiunto Veridiana che, per amore di Geppi, avrebbe lasciato il padre dei suoi tre figli. . . Aida Espica e Geppi si sono lasciati dopo il grande fratello Vip. . Geppi sta con lei perché vuole diventare famoso ha concluso Veridiana. . In realtà la storia tra Aida e il napoletano è finita subito dopo la fine del grande fratello Vip. . . Durante un weekend a Bormio, la showgirl venezuelana ha capito di non amare più Geppi. . In tale occasione la Espica ha scoperto pure del tradimento del fidanzato o verrà a saperlo tramite i giornali?. . . .